Sono due le inchieste aperte per stabilire le cause dell'incendio avvenuto sabato pomeriggio a largo di Tortoreto sullo yacht di 23 metri di bandiera maltese, la Rissa, che da Ancona si dirigeva a Pescara. Le due inchieste, una amministrativa, eseguita dalla Guardia Costiera per conto del Ministero dei Trasporti, e l'altra penale, affidata al magistrato Andrea De Feis. Di entrambe si sta occupando il capo dell'ufficio circondariale marittimo di Giulianova, Sandro Pezzuto. Le otto persone a bordo, un inglese, l'armatore russo con passaporto canadese e sei ciprioti, due minorenni, sono ancora ospiti di un albergo a Tortoreto. Nella giornata di ieri è stato nuovamente ascoltato il capitano dello yacht per stabilire con esattezza cosa stesse succedendo sul Larissa prima che divampasse l'incendio, ma non è trapelato nulla circa i contenuti dell'interrogatorio. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state causate da un motore per cause ancora da accertare, quindi dal vano motore, per poi propagarsi rapidamente a tutta l'imbarcazione. Un incidente o c'è stata qualche negligenza da parte dell'equipaggio? Al momento la prima ipotesi sembra più accreditata, ma gli inquirenti non sembrano scartare nessuna opzione. Il problema principale è quello della sicurezza della navigazione, messa a rischio dalla presenza del relitto su un fondale di meno di 7 metri, a solo un miglio e mezzo dalla costa. Poi c'è il rischio ambientale. Sul posto è attiva la motovedetta della Guardia Costiera Giuliese, Monterosa, arrivata già sabato pomeriggio prima del naufraggio. La nave è attrezzata per fronteggiare l'inquinamento del mare. I sommozzatori della Croce Rossa, in collaborazione con la Guardia Costiera, il corpo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roseto, nella giornata di ieri hanno nuovamente ispezionato i fondali e il relitto incendiato, confermando la presenza di una certa quantità di gasolio nei serbatoi dello yacht. Sempre la Guardia Costiera sta predisponendo il piano per il recupero dell'imbarcazione. Il comandante Pezzuto ha dato in carico all'impresa Mariter di Ortona di elaborare il piano che sarà probabilmente presentato oggi stesso. La scelta dipenderà anche dal peso del relitto, che non è trascurabile. Il peso attuale dello yacht è certamente inferiore alle 74 tonnellate iniziali, poiché la parte superiore del natante è stata completamente distrutta dal rogo. Il piano presentato dalla ditta ortonese dovrà essere valutato sia dall'ufficio marittimo, in ordine ai problemi relativi alla sicurezza, sia dall'armatore per quanto riguarda i costi dell'operazione che sono a suo carico.